Approderà presto in aula un disegno di legge firmato dall'assessore regionale alle attività produttive Linda Vancheri che prevede le liberalizzazioni e la regolarizzazione dei rapporti di lavoro nel settore degli idrocarburi. Un testo che uniforma l'isola ai requisiti nazionali ed europei. Una delle innovazioni del testo unico all'attività produttive che presto porteremo in aula è proprio la parte che riguarda gli idrocarburi, una parte in cui abbiamo recepito le norme nazionali che quindi rappresentano anche la liberalizzazione ma anche l'attenzione a quelli che sono i rapporti di lavoro tra i petrolieri, i gestori e i proprietari anche degli impianti. Abbiamo condiviso questo testo comunque di un tavolo in cui ci sono tutte le associazioni che rappresentano tutte le categorie, le abbiamo ascoltate, abbiamo modificato anche su richieste delle associazioni perché il fine ultimo deve essere quello di soddisfare pieno l'esigenza reale di queste categorie produttive e farlo anche in modo armonioso sia con la norma nazionale che con l'europea. In vista di un eventuale aumento dell'IVA previsto dal Governo nazionale, l'Avancheri sottolinea come la Sicilia in quanto regione a statuto speciale potrebbe gestire il provvedimento in modo autonomo. Ricordiamoci che comunque noi siamo anche una regione a statuto autonomo, quindi come in tutti i casi quando arriva una legge nuova nazionale noi a volte pensiamo di gestirla anche in modo diverso utilizzando lo strumento regionale. Questo bisognerà vedere, bisognerà anche lì aprire dei tavoli e capire in effetti qual è il feedback finale e se è un feedback troppo negativo o un feedback che comunque può essere recuperato anche attraverso il supporto di riforme strutturali a livello regionale che possono aiutare le categorie in questi settori interessati. Linda Vancheri evidenzia anche l'esigenza di un piano nazionale sul trasporto. Sicuramente dobbiamo pensare veramente ad aprire dei tavoli con tutte le associazioni e con tutti i sindacati perché dobbiamo fare il punto su alcuni settori che sono i settori portanti, trasversari, che vanno dalla logistica ai trasporti, nell'apertura di questi tavoli di lavoro. Allora lì dobbiamo capire come dobbiamo concertare gli strumenti nazionali con quelli regionali e c'è anche da dire che molto spesso noi già partiamo in svantaggio perché non siamo, per esempio nel caso dei trasporti, non abbiamo ancora un piano trasporti.